Intanto bisogna dire che è stato un acquisto velocissimo, nel senso che dopo l'infortunio, nel lunedì, che è stata una giornata di grandissimo lavoro, siamo arrivati poi a definire subito l'accordo con il ragazzo. Mi ha fatto molto piacere, uno perché stimo molto i giocatori sotto un punto di vista tecnico e umano, mi è sempre piaciuto, è un giocatore che ho seguito un grande interesse, e due perché lui ci ha messo grande partecipazione nel venire da noi, proprio raggiungendo subito l'aeroporto per partire, alle quattro di mattina è subito venuto e quindi mi dà molta piacevolezza questa sua volontà nel venire qua. Noi abbiamo Wimiroz infortunato, non è una bella situazione, abbiamo Stipanovic infortunato e quindi rimanevamo in sette, gioco forza, bisognava cercare di prendere un giocatore, cercare di prendere un giocatore non in una grande scelta, devo dire la verità, però un giocatore che possa sostituire Stipanovic e allo stesso tempo si possa anche affiancare in Fletcher, nel caso in cui Wimiroz non recuperi e Aaron Domenico debba giocare solamente dalla piccola. In che condizioni è arrivato il giocatore? Se il giocatore ha un contratto a termine o può essere prorogato fino a fine stagione? No, il giocatore ha un contratto fino a fine stagione che però è a nostra discrezione, è a sua discrezione vedere di interromperlo nel recupero di Stipanovic, piuttosto che in un'offerta notevolissima per lui. Nessuno dei due ha voluto forzare o fare violenza su quell'altro, quindi siamo tutti e due grandi vaccinati, sappiamo come funziona, per lui è una bella occasione, per noi è un grande rimedio e le due cose sono sposate. La condizione fisica del giocatore chiaramente non è ottimale al 100% anche perché si allenava sì ma con una squadra di categorie inferiori senza giocare la partita, non è pessima, non è come gli altri, quindi bisogna avere un'attenzione particolare perché lui non si sarebbe mai fermato, invece bisogna fermarlo perché sennò poi arriva sabato e non sta in piedi. Nello stesso tempo durante la gara cercare di capire quando dà tutto, poi dopo non strafare ma cercare di gestirlo con del buon senso. Da un punto di vista tecnico-tattico che cosa vuol dare il giocatore alla squadra? Un po' ti ho risposto prima nel senso che si può mettere insieme a Kevin come può sostituire Kevin, per adesso già se lui facesse una quindicina di minuti in sostituzione di Fletcher sarei contento. Ha qualche caratteristica diversa rispetto a Stipanovic perché è un giocatore che sa giocare si spalla e canestro, magari un pochino meno con energia come Stipa, però dotato di grande tiro e sicuramente una conoscenza della palla canestro maggiore. Due brutte tegole per la Juve Caserta, prima Rosso, poi Stipanovic, adesso è arrivato Tusek. Quanto cambieranno gli equilibri di questa squadra? Ma quanto cambieranno non lo so, è chiaro che ogni volta ci adeguiamo a una situazione nuova, purtroppo non per nostra volontà. L'assenza di Wim è pesata molto a Varese e l'assenza di Stipanovic a sopportare sarebbe stata troppo grande e quindi siamo ricorsi nel comprare un nuovo giocatore, corrisponde al nome di Marco Tusek che può giocare sia a 4 che a 5 e speriamo che ci dia una grande mano senza cambiare troppo i nostri equilibri. Prossima gara c'è in arrivo Pesaro, si va in anticipo in televisione anche se al Palamaggio, tu prima anche in conferenza stampa hai detto che forse non capita proprio a fagiolo come si suol dire per Caserta. No, sicuramente perché un giorno in più ci avrebbe permesso di recuperare meglio Wimmy Rose e per inserire Marco Tusek, però era già stato programmato e giustamente ci sono certe necessità televisive che valgono di più dei nostri tempi di recupero. Spero vivamente che i nostri tifosi si rendano conto che per noi è una situazione un po' dura, un po' difficile, è una condizione dove siamo molto rimaneggiati, dove lui ha dovuto imparare dei giochi in due allenamenti, dove noi cercheremo di capire quello che ci può dare in pochissimi allenamenti. La caviglia di Wimmy non è ancora a posto e quindi siamo in condizione rimaneggiata. Spero vivamente che il nostro campo sia un fattore campo importante. Quanto è stato difficile e quanto sarà difficile per te giocare con una squadra totalmente diversa in ogni partita? Ma sai, non è facile nel senso che non prendi il ritmo e non hai abitudine, però nello stesso tempo se tutti ci danno qualche cosa di grande impatto e di grande necessità credo che sia abbastanza semplice anche per me.